L'attrice e mamma della piccola dolce Camilla, Rosalinda Carnavò, su Instagram ha raccontato di un piacevole episodio che si è verificato proprio questa mattina. Ma vediamo cosa è successo. La ragazza si è recata in ospedale per la piccola di due mesi, Camilla, per un controllo di routine, ma dopo una lunga attesa è stata rimandata via a casa, perché oggi c'era lo sciopero del personale sanitario. Insomma, dolce Rosalinda, ora mamma della piccola Camilla, si è sfogata sui social. Non perché non c'era ovviamente il diritto di scioperare, ma perché nessuno si è preso la briga di avvisare del possibile disguido che oggi poteva esserci. È facile dire, signora c'è sciopero del personale sanitario e può tornare a casa. Ma la neo mamma, Cannavò, si era anche svegliata all'alba proprio per quella visita programmata da tempo. Comunque tanti sono stati messaggi di solidarietà per l'attrice perché l'hanno vista un po' preoccupata e incavolata direi, ma come si dice, tutto è bene quando ovviamente finisce bene.